L'ASL, Avezzano, L'Aquila, Sulmona, l'Università dell'Aquila, l'Istituto di Fisica Nucleare, l'INAIL e l'AIAS mettono insieme le loro migliori eccellenze in una giornata di analisi e proposte operative che si concluderà con l'intervento del capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, già prefetto dell'Aquila ai tempi del terremoto. Il 23 settembre prossimo, infatti, all'Aquila, l'auditorium della Guardia di Finanza si svolgerà a partire dalle 8.30 un convegno nazionale per il quale è prevista la presenza di circa 400 persone provenienti da varie regioni italiane. Il titolo del convegno sarà Sicurezza integrate nel sistema Italia. Si tratta di una tavola rotonda ad alto livello che cercherà di affinare nuove strategie e modelli per l'adozione di misure speciali contro i diversi tipi di eventi, tra cui il terremoto, tornato purtroppo nelle cronache italiane proprio di recente, in grado di mettere fuori mercato l'intera produttività di un'azienda, oltre che procurare eventi luttuosi a carico dei lavoratori e della popolazione in generale. Blindare l'incolumità dei dipendenti e proteggere i dati sensibili come salute, religione, opinioni personali ed altro, alzando il livello di risposta di ciascuna azienda contro il terremoto, ma anche attacchi informatici, terrorismo ed altro. Nell'ambito della cerimonia di consegna degli attestati e delle medaglie ai finanzieri donatori di sangue che si svolgeranno nel comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, saranno donati in beneficenza circa 10.000 capi di abbigliamento oggetto di sequestro da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano. Si tratta di vestiario nuovo e ancora confezionato negli imbagli originali, con marchi delle più note griff nazionali ed estere, del tutto originali, che sono oggetto di indagine per la loro dubbia provenienza. Il materiale, dopo le indagini, si è accertato che proveniva da furti. Il Tribunale di Avezzano ha incaricato il reparto operante di restituire gli articoli rinvenuti ai legittimi proprietari. Questi però hanno espressamente manifestato la volontà di non procedere al loro ritiro, consentendo dunque di donare tutto il materiale in beneficenza alle popolazioni colpite dal sisma dell'Italia centrale. Un forte legame dunque tra Guardia di Finanza, Croce Rossa Abruzzese e imprenditori privati. Da sottolineare inoltre che la Guardia di Finanza, insieme alla Croce Rossa, sono stati tra i primi soccorritori a intervenire sui loghi del disastro del terremoto, già dopo le prime ore dall'evento. Prima della cerimonia dei donatori del sangue, si procederà comunque anche alla consueta donazione di sangue sull'auto emoteca della Croce Rossa Italiana, alla quale potranno avvicinarsi anche i cittadini aquilani comunque interessati. Paolo Fresu con Rafael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Tullio De Piscopo e tanti altri nomi del jazz italiano sono stati sul palco ieri sera in occasione dell'evento conclusivo della rassegna Il Jazz Italiano per Amatrice. Sulla bellissima scenografia naturale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio a fare da sfondo, la manifestazione ha attirato migliaia di persone nel cuore della città già ferita dal terremoto del 2009. Ed è così che la maratona musicale, originariamente il jazz italiano per l'Aquila, è diventata il jazz italiano per Amatrice. Da un punto all'altro dello stivale, tantissimi musicisti hanno aderito alla maratona per poter raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni terremotate del centro Italia. Il 15% dell'incasso di tutti gli esercenti presenti alla manifestazione è stato devoluto ai territori colpiti dal sisma. Abbiamo preso una decisione importante, cioè tra l'angoscia del momento e la difficoltà complessiva di portare avanti un progetto economico e commerciale, abbiamo deciso di invece essere presenti unicamente qui al jazz, all'Aquila, al jazz per Amatrice, con una presenza istituzionale dei parchi, sviluppando un'azione di solidarietà a favore di Amatrice per la ricostruzione del teatro. Noi siamo qui oggi a testimoniare che la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, i nostri fratelli e le nostre sorelle di Amatrice, è anche testimoniare una cosa un po' più profonda, cioè che vivere nell'Appennino è complicato, è difficile perché si sta in montagna, perché fa più freddo, perché i servizi costano di più e sono meno efficienti e perché ci stanno anche i terremoti, però pensare che per tutto questo noi ci rassegneremo ad andarcene via è sbagliato. E' mancata solo la vittoria all'Aquila Calcio, che pareggia per 1-1 con un po' di sfortuna tra le mure amiche, contro il Monterosi, una formazione nella provincia di Viterbo neopromossa in Serie D. Per la cronaca, all'undicesimo il Monterosi si conquista una punizione fuori aria con Fanasca che insacca all'angolino. Successivamente all'iniziale sbandamento l'Aquila regisce al trentesimo e trova il pareggio con un calcio di rigore conquistato da Zane che viene atterrato da Torricelli. Sul dischetto si presenta Mini Cleric che spiazza Scarsella. Nella ripresa si vedono subito gli ospiti grazie a un errore di Zane. La palla viene intercettata da Laziali con la conclusione di Pippi respinta in angolo da Pupeschi. L'Aquila si rende pericolosa ma non punge. Sfortunato però Ganci per ben due volte. La prima al ventisettesimo quando su punizione colpisce la traversa con il portiere ospite che rimane fermo e poi al trentunesimo con un colpo di testa che vede Scarsella respingere miracolosamente da pochi metri distinto. Al trentasettesimo viene espulso Mr. Morgia per un'incomprensione con il guardaline dato che l'allenatore Aquilano chiedeva di poter effettuare la sostituzione. Nel finale partita succede di tutto. Il Monterò si crea un'azione pericolosa viziata dalla posizione di fuorigioco di Piro che costringe al fallo Pupeschi. L'arbitro giustamente lo espelle. Punizione dal limite di Pippi con la respinta di Salvetti e nel proseguimento dell'azione Romano scalcia Minicleri e viene espulso anche lui. Per l'Aquila Calcio si può già dire buona la prima ed ora il pensiero è già a domenica prossima a Foligno. Una squadra che inaugurava questo bellissimo impianto per la prima volta che giochiamo davanti al pubblico. Poi in quei dieci minuti abbiamo preso anche gol e qui ora mente fredda è meglio così, così almeno abbiamo già visto le difficoltà che si possono incontrare, però la reazione è stata quella giusta. Io sono super soddisfatto perché i ragazzi credo che hanno dimostrato quanto ci tengono a fare bene, hanno dato tutto quello che avevano. La mia espulsione purtroppo mi faccio mea culpa, è un difetto che ho dalla nascita, non sono uno come il Lido che se ne sta bello tranquillo, partecipo al gioco, ma in quella fase là credo che sia stato interpretato un reglamento altamente sballato perché eravamo in emergenza, dovevo fare una sostituzione e avevano già buttato fuori chi doveva fare le sostituzioni e non vedo come facevo per fargli capire che dovevo fare le sostituzioni se non mi alzavo o se non mi andavo a dirgli che dovevamo fare una sostituzione. Nel giorno di festa per questa città, nello stadio nuovo, un impianto fantastico e per noi poteva essere difficile venire a fare una partita con queste condizioni, invece la squadra ha dimostrato personalità nella prima mezz'ora, siamo andati in vantaggio, poi secondo me abbiamo un po' sbagliato andando dietro a situazioni che non c'entravano niente con la partita e poi l'Aquila credo abbia meritato il pareggio. Questa è una spesa impenetrabile con due soli tiri, uno per tempo, la formazione abruzzese si è presa l'intera posta in palio. Le immagini principali si comincia al dodicesimo con questa conclusione debole di Padovani di controbalzo, alta. Al diciassettesimo il gol che porta in vantaggio la formazione abruzzese. Aquino sorprende il portiere del Sansepolcro Chichri con una conclusione precisa in diagonale. È il vantaggio della formazione dell'Avezzano. Al trentesimo ci prova di testa Bortolussi, ma nessun problema per il portiere Lewandowski. Al trentacinquesimo, giorni dalla distanza, il suo tiro è potente, ma di poco fuori. Trentasettesimo minuto, l'occasione più limpida per il Sansepolcro. Il lancio preciso di Piccinelli per Bortolussi nel pieno dell'area avversaria. La palla del pareggio è servita, ma l'attaccante del Sansepolcro spara addosso a Lewandowski. Si va al riposo sul vantaggio dell'Avezzano e la ripresa si apre al quarto minuto con la conclusione di Piccinelli dalla distanza. Lewandowski non trattiene, Braccalenti si avventa sulla palla, ma il portiere oramai l'ha bloccata, commette addirittura fallo l'attaccante del Sansepolcro. Al ventesimo da calcio d'angolo di testa, tabacco per l'Avezzano. La palla però è fuori. Al ventiduesimo ci prova Gorini al volo sulla respinta della difesa dell'Avezzano, ma a terra blocca Lewandowski. Al trentaseiesimo ci prova Silvestri, entrato nella ripresa, così come Calderini e Mencagli ha provato tutte le carte a disposizione. Marco Schenardi ma non c'è stato nulla da fare. La palla è alta, non di molto. Al quarantesimo arriva il raddoppio. Su un'azione piuttosto confusa, una palla altissima dal fondo. La corta respinta di Chicri con Tersini che si avventa sulla palla. Il contatto con Leto per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso giocatore della formazione dell'Avezzano e realizza il 2-0. Possono esultare i tifosi arrivati dall'Abruzzo. Da Avezzano per la precisione. Una trentina che si sono fatti sentire per tutta la partita. Grazie a tutti.